ragazzi deve ancora finire la partita perché siamo all'ottantatresimo con il 4-1 che andrebbe appena sparato una bomba addosso al portiere vabbè comunque onestamente non mi va di fare né sfoghi né di gridare a scandali né usare, strumentalizzare, approfittare della sconfitta così dell'Inter per fare le puttanate da youtuber ecco perché mi danno fastidio io già immagino cosa potrebbe accadere dopo ecco perché mi avvantaggio, faccio il video prima così poi non devo più stare connesso non vedo più cazzate che magari circolano scusate, lo sfogo preventivo questo è uno sfogo preventivo detto questo io vorrei cercare di analizzare un po' il perché viene questa sconfitta come è maturata, cosa si poteva fare di più se ci sono colpe, di chi e per cosa e vi dico questo vi dico che l'Inter e il Napoli sono due squadre che giocano cioè che ricercano il gioco dal basso che provano a costruire a differenza di altre anche forti come la Juve che in realtà non ricercano il gioco ma sfruttano semplicemente le giocate individuali il problema qual è tra l'Inter e Napoli intanto c'è l'Inter che prova ad attaccare ancora ma niente la differenza tra l'Inter e Napoli però è che con la stessa ricerca del gioco poi abbiamo interpreti differenti l'Inter quando crea fa possesso, palle e tutto quanto arriva davanti ed è bloccata perché comunque ci sono giocatori che non sono realmente di qualità cioè Nainggolan Perisic lo stesso Gagliardini o Vecino sono giocatori di quantità cioè sono manovali prestati all'attacco più che gente di fino mentre il Napoli ha gente come Zielinski gente come Insigne gente come Caglione e altri e anche i terzini sono di qualità del Napoli quindi anche partendo dal basso gente come Goulam eccetera insomma sono persone che sanno portare la palla che sanno trattare la palla quindi raramente sbagliano anche ad alti ritmi questa partita è stata giocata ad alti ritmi anche ad alti ritmi lì si vede la differenza e noi ne abbiamo abbiamo patito questa cosa e questo è quello che ha causato il perdere palloni e poi la differenza di punteggio ma all'interno di questo c'è anche un problema tattico in realtà perché il Napoli si schiera con un 4-4-2 e il 4-4-2 tu lo puoi fronteggiare a mio avviso cercando di metterli in difficoltà per vie centrali perché la spina dorsale centrale formata da due interni potrebbe essere debole potrebbe andare in inferiorità numerica come però se tu decidi di giocare per vie centrali tu avevi un 4-2-3-1 intanto sto guardando anche la partita con un occhio intanto finché parlo cerca Andreva che manovra l'azione con la sua classe guarda infatti non fa nulla comunque a parte quello dicevo che com'è che puoi mettere in crisi quindi il 4-4-2 giocando per vie centrali ma se hai un 4-2-3-1 fai un po' fatica sei quasi a specchio perché il 4-2-3-1 è un 4-4-1-1 quindi se tu vai a specchio vince la squadra che comunque ha più qualità che gioca in maniera più fluida quindi devi cambiare tu si poteva tranquillamente arretrare Nengolan passare a un 4-3-3 a questo punto avreste avuto vantaggio proprio al centro campo dovevi sfruttare l'uomo in più in mezzo per triangolare per mettere fuori i loro due interni a questo punto o li mettevi fuori quindi con la superiorità numerica potevi risalire il campo o fraseggiare con delle triangolazioni e quindi mantenere il possesso più facile per scalare in avanti altrimenti loro avrebbero come di solito succede avrebbero dovuto con uno dei due esterni addentrarsi in mezzo al campo ma a questo punto eri tu ad avere poi un uomo libero sull'esterno o una mezzala o soprattutto un'ala o soprattutto ancora ancora di più un terzino perché spesso è l'esterno loro che viene che viene dentro e quindi hai il tuo terzino libero e riesci ad andare sugli esterni quindi la mentalità è cerco la manovra centrale per obbligare loro a liberarmi gli esterni ok questo è il senso di quella mossa che si poteva fare mentre cosa ha fatto Spalletti Spalletti nel secondo tempo ha schierato un 3-5-2 anzi 3-4-1-2 ma comunque è un 3-5-2 facendo così ha sistemato il centrocampo e infatti abbiamo cominciato ad avere un po' più possesso e un po' più spazi dentro però prima cosa hai messo un modulo in campo che non ti appartiene non hai preparato non è il tuo solito quindi ti sei scombinato tanto mentre il 4-3-3 dal 4-2-3-1 cambia veramente poco quindi non è che vai a perdere i parametri le distanze seconda cosa ti sei esposto a due pericoli tattici primo pericolo ripartenze perché se tu col 3-5-2 poi avendo perisic esterno due punte eccetera vai tanto in avanti nel momento in cui perdi palla allora con la grande velocità che hanno sono praticamente a fare l'uno contro uno contro difensori centrali quindi contro gente che magari anche un po' lenta sul cambio passo e viene puntata frontalmente quindi questo è un problema ma soprattutto secondo me un problema ancora peggiore è che nel momento in cui il Napoli recupera palla riesce a palleggiarti un po' e a a venirti su e quindi a fare manovra nella tua metà campo con il 3-5-2 che in fase difensiva si trasforma spesso in un 5-3-2 ti schiacci e quando tu ti schiacci con una squadra contro il Napoli che fa della manovra del possesso dei passaggi anche verticali scusate orizzontali quindi dello spostamento del fronte il suo forte va in difficoltà ed è per quello che abbiamo subito poi l'imbarcata abbiamo subito l'imbarcata proprio per questa cosa qui perché ci siamo schiacciati forse il secondo gol se non sbaglio o il secondo o il terzo gol adesso ho un attimo di dimenticanza è venuto proprio su questa situazione qualcosa che ho appena spiegato cioè noi ci siamo abbassati non siamo riusciti a fare una fase difendente corretta perché continuamente loro ci spostavano il pallone e noi non riuscivamo ad uscire a uscire col pressing quindi loro continuavano a recuperarlo e ci assediavano fino a che hanno trovato il gol poi abbiamo subito anche un gol anche in ripartenza infatti quindi è quello che stavo dicendo io cioè Spalletti con una mossa ne ha sistemato un problema ma ne ha creato poi un altro quindi purtroppo questi sono i soliti problemi di Spalletti che fa scelte cervellotti e quando avrebbe la cosa più semplice lui sceglie quella più complessa che spesso non è neanche risolutoria anzi risolutiva anzi magari crea un altro problema e quindi alla fine non aggiusta niente si continua a soffrire come stiamo vedendo questa analisi la sto facendo intanto a Napoli quasi fa un altro gol questa analisi la sto facendo finché la partita è ancora in corso proprio per avvantaggiarmi di uscire prima e cercare cercare se magari qualcuno vede questo video prima di altre cose cercare di far ragionare un po' la gente e non che ci possa essere una così un'influenza un diffondersi di sfoghi di cose assurde aberranti che non c'entrano niente come abbiamo visto anche ad esempio oggi abbiamo giocato 45 minuti con due punte quindi le due punte le due punte le due punte le due punte chi la fa facile sparando queste cazzate che è questione delle due punte ecco abbiamo visto che non cambia un cazzo due punte una punta o tre punte ok dipende come è la situazione tattica in campo e soprattutto come gira il centro campo lì è il fulcro di tutto poi se tu puoi avere una punta davanti o ne hai due o tre ma se il sistema la manovra tua funziona il centro campo funziona il possesso è buono anche con una punta fai 5 gol fai 7 gol non c'entra un cazzo le due punte ragazzi quindi mi raccomando quando sentite questo tipo di analisi queste soluzioni facili campanello d'allarme immediato cioè allarme ping campanella immediata cazzata in corso ok questo è non lavoro in corso cazzata in corso mi raccomando per chi cerca un po' di realtà se poi uno vuole sentirsi dire quello che vuole sentirsi dire appunto allora che si faccia quello che si vuole però poi in base a queste cose in base a queste minchiate la gente si forma le opinioni e poi prende una posizione o un'altra o chiede una cosa alla società oppure un'altra quindi attenzione a formarsi opinioni su puttanate cerchiamo di ragionare di essere liberi di cercare di fare appunto analisi e non pattume mi raccomando come vedete non sono incazzato perché tutto sommato con il Napoli ci sta anche di perdere cioè era vincere con il Napoli in casa del Napoli l'impresa ok non è assurdo perdere quindi adesso mi raccomando insomma sono dispiaciuto siamo in una situazione critica non sono felice assolutamente ma ci vuole anche un po' di lucidità ok essere lucidi mentalmente collegati con i neuroni che funzionano e capire che poteva succedere quindi adesso ci giochiamo tutto in casa e chiaramente siamo in una situazione di merda perché giocarsi tutto all'ultima rompe le balle vedo che c'è perché si fermano a centrocampo non lo so comunque giocarsi tutto all'ultima rompe le balle non sono contento sicuramente quindi Spalletti il giudizio è negativo per questa stagione anche se dovessimo arrivare in Champions all'ultima giornata aspettavo proprio queste ultime due partite per formarmi una valutazione nitida perché io non sono cattivo e anti cose cioè non vado mai anti non sono mai contro qualcosa voglio prima avere la certezza prima di dare un giudizio prima di sparare una valutazione ok e la certezza l'ho avuta adesso cioè prima sarebbe stato solo un pregiudizio e io con i pregiudizi me ne frega niente ecco questo era il punto quindi aspettavo anche questa partita per vedere un po' cosa poteva proporre Spalletti proprio perché sono uno che dà possibilità alle persone in generale io cerco sempre di essere aperto e mai rigido nazista nel modo di pensare ecco quello secondo me essere chiusi mentalmente è indice di intolleranza di saccenza e non di umiltà o di spirito critico e quindi ecco perché aspettavo queste partite quindi adesso posso dire che il giudizio su Spalletti purtroppo è negativo abbiamo visto il 3-5-2 che ci sarà tanto caro l'anno prossimo con Conte non c'entra niente il modulo non c'entra niente le due punte ripeto c'entra poi come trovi la quadra in campo c'entrano anche i giocatori che hai a disposizione probabilmente con giocatori diversi davanti si può fare più male che non con Perisic che è appunto un manovale prestato all'attacco o Nainggolan che non è un vero trequartista ci siamo convinti che fosse un trequartista perché con la Roma Spalletti l'ha inventato lì certo ma c'era un'altra squadra intorno eccetera Nainggolan nell'Inter secondo me è una mezzala non è un trequartista non è un giocatore che ha l'ultimo passaggio che pulisce l'azione davanti che è quello di cui abbiamo bisogno sulla trequarti ecco poi ripeto tanti giocatori non sono mai stati in forma per tutto l'arco della stagione Nainggolan stesso Keita Naversalico Perisic anche quindi è difficile essere brillanti gli ultimi 20 metri con questi giocatori qua quindi poi chiaramente lo giudizio è negativo su Spalletti appunto ma non voglio crocifiggerlo anche se sono molto critico e anche oggi è dimostrato che ha limiti sulla lettura delle partite sulla cognizione di alcune cose purtroppo tattiche che sono di competenza proprio dell'allenatore ragazzi questo è e quindi come era preventivabile siamo l'Inter soffriamo fino all'ultimo secondo del campionato aggiungo chiosa finale che se l'Inter dovesse non andare in Champions e dovesse andare in Champions il Milan a parte che sarebbe un fallimento pazzesco per noi e sarebbe una roba da pugni nello stomaco però devo anche dire che il Milan proprio non se lo merita quindi sarebbe un'ingiustizia è vero che ci incazziamo ci incazziamo tra di noi con i giocatori con spalletti con chi volete però sarebbe un'ingiustizia tremenda per quello che dimostra il Milan per quello che è il Milan io ho visto tante partite del Milan quest'anno e non mi capacito di come possa essere lì onestamente in classifica cioè lì vanno veramente a culo un sacco di cose vabbè magari un po' di erogicamento il mio premetto comunque ciao a tutti spero che il video vi abbiate apprezzato e colto e visto con la testa sgombra e non perché siete capitati qua in preda all'ira e alla frustrazione più incredibili ok? mi raccomando state sereni camomilla a letto domani è lunedì